padre franco moscone inizia un nuovo anno il 2020 l'anno del riscatto tutti si auspicano che sia l'anno del riscatto nel nostro gargano che cosa si auspica per questa terra il riscatto non è un miracolo quindi non è una cosa immediata che basti un desiderio basti una parola o la bacchetta magica il riscatto ha bisogno di un percorso ha bisogno di una decisione ecco se se tutti ci decidiamo per il bene se tutti ci decidiamo per il rispetto del nostro ambiente delle nostre istituzioni delle nostre città e del nostro territorio incominciamo un percorso di riscatto ecco quindi io mi auguro che il 2020 sia l'anno di questa decisione comune di questo sguardo finale comune tra tutti gli abitanti del gargano e tra tutte le istituzioni che a vario titolo hanno questo territorio loro affidato la società civile le amministrazioni le forze dell'ordine ovviamente la chiesa visto che a me tocca indicare esattamente la chiesa cattolica che gasgano si aspetta un gargano bello perché lo è già più bello perché meglio custodito e rispettato da parte nostra da coloro che ci abitano a cui è affidato per poterlo trasmettere alle generazioni che viene un gargano che viene dal futuro ricordando il suo bel passato e le belle testimonianze di natura e di arte di spiritualità grazie grazie